Il Duomo di Milano ha nuovamente aperto le proprie porte per accogliere un pontefice. Dopo Martino V nel 1418, Giovanni Paolo II nel 1983, nel 1984 e Benedetto XVI nel 2012, Papa Francesco ha abbarcato la soglia della Cattedrale Meneghina e ha attraversato la navata centrale, accompagnato dall'entusiasmo dei presenti, i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i consacrati. Dopo un momento di adorazione del Santissimo Sacramento e venerazione delle reliquie di San Carlo, Papa Bergoglio ha condiviso alcune considerazioni con i circa 4.000 convenuti, sollecitato da tre domande. In un mondo che vive un cambiamento d'epoca più che un'epoca di cambiamenti, il pontefice ha chiesto a tutti di non avere paura delle sfide perché sono segno di una fede viva, di una comunità che tiene gli occhi e il cuore aperti e soprattutto perché aiutano la fede a non diventare ideologica. La Chiesa, che è una nelle differenze, senza divisioni, deve ricordarsi che la sua gioia è evangelizzare, ma la fede per essere cristiana e non illusoria deve configurarsi all'interno dei processi umani senza ridursi ad essi. Di grande importanza dunque è coltivare il discernimento e insegnarlo soprattutto ai giovani, oggi esposti a uno zappo in continuo in una cultura confusa dell'abbondanza. Tra le risposte di Papa Francesco, una è stata dedicata ai diaconi, che offrono un contributo importante e non devono essere visti come mezzi preti e mezzi laici. I diaconi hanno una vocazione specifica, quella del servizio, e non devono cedere alla tentazione del clericalismo e del funzionalismo. Il successore di Pietro ha abbracciato le preoccupazioni espresse e dinanzi a quanti si sentono oggi pochi, quasi una minoranza, con le forze che si fanno sempre più esigue, ha chiesto di non cedere mai alla rassegnazione anticamera della Cidia e di ricordare che le famiglie religiose devono avviare processi, non occupare spazi. Siate lievito e sale della società, è stato l'invito di Papa Francesco prima di guidare la recità dell'Angelus sul sagrato del Duomo, accendete la speranza spenta e fiaccata da una società che è diventata insensibile al dolore degli altri. Grazie a tutti.